Tutti in trincea, questa è la guerra al Covid. Nel Veneto, dove calano i contagi, la grande sfida resta la campagna vaccinale. È una vaccinazione di massa, non targettizzata con le classi di età. Voi capite che noi per fare 100.000 vaccini al giorno non abbiamo problemi. Capite che 100.000 per 30 giorni fa 3 milioni. Allora, voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, due mesi a fare tutti i Veneti. Un mese e mezzo per vaccinare tutti i Veneti. Questa è la potenza di fuoco della regione, ma mancano le dosi. In questa guerra mancano le munizioni. Noi siamo carichi, nel senso che sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto. Spero che il governo, se non continua con queste forniture dei vaccini, si decida di liberarsi le mani e andarsene a comprare. Io non so più cosa dire. Guardate che sono come il pane, è ossigeno. Non abbiamo più i cluster ospedalieri da quando abbiamo fatto i vaccini. Nelle case di riposo siamo precipitati con infezioni. Questa è la vera unità di misura. I vaccini sono preziosi, le dosi non vanno sprecate e per questo Zai ha parlato molto chiaro nel summit con gli altri governatori. Io ho anche detto in riunione, se non vogliono AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo. Insomma il grande obiettivo è vaccinare i Veneti, tutti i Veneti. Io non dico che tutti i Veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i Veneti hanno diritto ad essere vaccinati.